Cari quaddisti, odolo, crossodono, galaello, eccoci, boxer team quaddi off-road e vediamo tre Yamaka schierate, sembrano identiche, guardiamole nello specifico, i mezzi hanno una motorizzazione preparata, utilizzano sospensioni Fox, rigorosamente ad aria, vediamo delle differenze nelle motorizzazioni a seconda dei piloti, Amerigo Ventura, Ettore Ventura e signori, bellissimo, 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 ma QX3, 350, e questa è la grossa differenza, veramente un'ottima soluzione, comunque l'utilizzo della Yamaka è un mezzo fantastico, un mezzo molto facile nell'inserimento, molto compatto, si adatta anche a piloti piccoli di struttura e questa è la grande versatilità del Yamaka 450, e questo è un tema veramente importante, il signore sta per venire giù il mondo a crossodono, galaello, e quindi oggi pomeriggio difficilmente troveremo uno, i piloti potranno allenarsi, or che bacca dal ferro, dal crossodono a galaello, per l'ultima prova prima della chiusura estiva, è tutto per questa videointervista.